Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese film a caso, il film di oggi è Le strade del male, cominciamo! Film di Antonio Campos con Harry Milling, Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Riley Kug, Hallie Bennett del 2023. Il racconto di varie generazioni nella città di Corriver durante il dopoguerra, legate indissolubilmente da un rapporto tossico con la religione e da una violenza distruttiva tra sacrifici e vendette. La pellicola è in grado di dare un distorto quadro del microcosmo in cui è ambientata, che nei vari capitoli storici si contraddistingue per orrori e violenze, con una gamma di personaggi che o si fanno abbindolare da un utilizzo non ortodosso della religione, o che usano la religione come mezzo per abbindolare il prossimo. Una girandola infernale tra cruente, spiazioni e trucicolpe, che però non riesce a somigliare a un apologo sull'umanità e le sue brutture, ma finisce per risultare fine a se stesso, confinato e circoscritto alle vie di Corriver. Due personaggi femminili che, accecati dal fascino dalle figure dei predicatori, finiscono per cadere nella loro trappola, diventando vittime di un perverso rovesciamento di ruoli, dove la maschera di moralità cade per svelarne una di totale perdizione e follia. L'amore quindi diventa un lusso che i personaggi non possono permettersi, dato l'ambiente diffidente e grigio in cui si trovano. C'è una sequenza in cui il personaggio, interpretato da Tom Holland, compresa la vera natura del perfido prete, interpretato da Robert Pattinson, si avvicina a quest'ultimo, armato di pistola, e lo affronta prima verbalmente e infine con l'arma da fuoco. Qua veniamo a contatto con la vera essenza malvagia del personaggio. Ci aspetteremmo una sorta di confessione, di rivelazione dei suoi motivi dietro alle insane azioni che compie, magari resilienti in qualche malsana percezione della fede, come è possibile fare col personaggio interpretato da Harry Melling, che dietro alle sue folli gesta nasconde una reale, per quanto malata e violenta, visione di Dio. E invece ci rendiamo conto che si tratta di una crudeltà innata e squallida, senza precetti di ogni tipo alle spalle, e ricorda in questo il killer silenzioso di Fargo interpretato da Peter Stormar, che non c'era nessuna motivazione o necessità di soldi dietro ai suoi omicidi, solo vera e propria psicopatia. Ciò inquieta e destabilizza lo spettatore, a contatto con la forma più concreta e gretta di male, di matrice coegnana alla rappresentazione della violenza o delle varie esecuzioni, in cui il caso ha un ruolo predominante, finisce per sovrastare qualsiasi logica e stravolgere qualsiasi etica o piano prefisso dai personaggi. Esempio di ciò la trovata del mancato caricamento di una pistola, che per una bizzarra e scombussolante traiettore del destino, salva casualmente una vita e ne termina due. Anche nei conflitti a fuoco, nei vari decessi, non conta né la bravura dei pistoleri in gioco, né tantomeno la loro caratura morale, è solo ed esclusivamente il caso e il caos a dirigere l'orchestra di proiettili. La voce narrante commenta pedissequamente la storia con un modo di fare a tratti disincantato, come a volerci comunicare l'impossibilità di evitare lo scorrere spiacevole degli eventi. Questa voce fuoricampo sembra appartenere a qualcuno che soffre il suo ruolo di commentatore, che gli impedisce di fare qualcosa per salvare i personaggi dai destini di cui lui è già a conoscenza. Il minutaggio e l'attraversamento di vari periodi storici sembra ambire a un'epopea, ma come già detto la sensazione è quella di essere intrappolati nei confini della vicenda narrata, che non diviene così universale come auspicabile. Nonostante questo, la visione è gradevole e assolutamente appagante. Da vedere!